Come disinfiammare le tonsille in modo naturale. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, il miele ci aiuta ad alleviare il mal di gola e le sensazioni di fastidio e secchezza. La tonsillite è una malattia causata da virus o batteri che risiedono nella gola, proprio nelle tonsille. In questo articolo potrete imparare a disinfiammare le tonsille in modo naturale, affinché non soffriate più di questo problema e anche perché possiate prevenirlo. Infiammate, alcune informazioni le tonsille sono un tessuto che funge da difesa per impedire l'ingresso di germi attraverso gli alimenti o l'aria che respiriamo, oppure gli oggetti che ci mettiamo in bocca. Quando vengono esposte ad alcuni microorganismi o a cattive abitudini si infiammino, perché si creano delle infezioni. In questo caso si parla di tonsillite. I più soggetti a soffrire di questo disturbo sono i bambini, anche se non è stata individuata una fascia d'età più specifica a rischio. Tra i sintomi della tonsillite possiamo trovare Fastidio quando si deglutisce Mal di gola Febbre alta Difficoltà respiratoria Pus nella gola Dolore alle orecchie Perdita della voce Bocca secca Ghiandole Infiammate Dolore alla mandibola Mal di testa Malessere generale Rimedi e trattamenti naturali Per la tonsillite Se soffrite di dolore acuto alla gola a causa delle tonsille gonfie, non preoccupatevi, poiché potete ridurre i sintomi grazie ai seguenti rimedi naturali. Timo, miele e limone Potete preparare un infuso usando questi tre ingredienti, perché sono davvero efficaci. Ingredienti 1 cucchiaio di timo secco, 15 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, il succo di mezzo limone e 1 cucchiaio di miele, 25 g. Preparazione Fate bollire l'acqua con il timo per circa 5 minuti. Lasciate riposare per altri 5 minuti o finché il composto non diventa tiepido. Poi filtratello. Aggiungete il succo di limone, il miele e poi bevete prima che si raffreddi. Bicarbonato di sodio e limone Questo mix di ingredienti serve a pulire le placche di pus che aderiscono alle tonsille. Inoltre, permette di combattere il dolore. Ingredienti 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, 15 g, il succo di un limone Preparazione Mescolate i due ingredienti Realizzate dei gargarismi tra 3 e 5 volte al giorno. Fichi e miele Con questo due ingredienti otterremo uno sciroppo ottimo per curare il mal di gola in generale e la tonsillite in particolare. Ingredienti 3 fichi 2 cucchiai di miele, 50 g, 1 po' d'acqua Preparazione Riscaldate i fichi, precedentemente sbucciati e tagliati a cubetti, insieme a un po' d'acqua e al miele. Poi mescolate bene con un cucchiaio di legno. Quando il composto risulterà omogeneo, versatelo in un contenitore di vetro con tappo ermetico. Potete conservarlo in frigorifero per due settimane. Prendetene un cucchiaio a digiuno, uno a pranzo e un altro prima di andare a dormire, per circa una settimana. Latte e argilla Questo rimedio casalingo per la tonsillite si applica in modo esterno come cataplasma. Ingredienti 1 barra 4 di tazza di latte 3 cucchiai di argilla Preparazione Riscaldate il latte e mescolate con l'argilla fino ad ottenere un composto morbido. Inzuppate un panno di tessuto spesso con questo preparato e collocatelo attorno al collo prima che si raffreddi. Sopra, collocate un panno di cotone o di lana affinché la temperatura si mantenga più a lungo. Ritirate quando si raffredda. Ripetete il trattamento ogni notte prima di andare a dormire. Rosmarino Vino bianco e miele Questa ricetta ha la capacità di eliminare i virus che attaccano le tonsille. Ingredienti 3 cucchiai di rosmarino secco, 45 g, 1 calice di vino bianco, 100 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g. Preparazione Riscaldate il vino con il rosmarino. Quando bolle, ritirate dal fuoco e coprite per qualche minuto. Filtrate e mescolate con del miele. Fate dei gargarismi tre volte al giorno. Acqua, sale e limone. L potere antisettico del limone è davvero meraviglioso. Inoltre, vi aiuterà ad eliminare le placche di pus dalla gola. Ingredienti Il succo di 1 barra 2 limone 1 cucchiaio di sale, 15 g, 1 barra 4 di tazza d'acqua. Preparazione Mescolate insieme gli ingredienti e realizzate dei gargarismi. Per fare ciò, è meglio utilizzare dell'acqua tiepida. Salvia e saponare a un mix di erbe davvero benefico per qualsiasi tipo di dolore, poiché possiedono entrambe proprietà interessanti per alleviare il mal di gola. Ingredienti 1 cucchiaio di salvia, 15 g, 1 barra 2 cucchiaio di saponaria, 7,5 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g. Preparazione Riscaldate l'acqua e aggiungete le erbe, lasciando cuocere per circa 5 minuti. Lasciate riposare altri 10 minuti, filtrate e addolcite con miele prima di bere l'infuso più caldo che potete. Ravanello, ananas e aglio Cosa ve ne pare di un bel frullato per curare la tonsillite? Dovete berlo di mattina, a digiuno, fino a quando l'infiammazione non si sarà ridotta. Ingredienti 1 ravanello Maturo 3 fette di ananas 2 spicchi d'aglio Un po' d'acqua Preparazione Tagliate il ravanello e mettetelo nel frullatore con gli altri ingredienti. Mescolate bene fino ad ottenere un frullato omogeneo e bevete immediatamente. Camomilla e salvia Non poteva mancare una ricetta che combinasse due piante con numerosissime proprietà medicinali come la camomilla e la salvia. Ingredienti Fiori di camomilla 5 g 1 cucchiaio di salvia 5 g 1 tazza d'acqua 250 ml Preparazione Riscaldate l'acqua e quando bolle, aggiungete la camomilla e la salvia e fate cuocere per 5 minuti. Ritirate dal fuoco, coprite e poi lasciate riposare, per almeno 15 minuti. Filtrate e, una volta tiepido, usate l'infuso per fare dei gargarismi ogni 2 ore. Borragine e miele Quello che vi presentiamo a seguire è un rimedio eccellente per il mal di gola oltre che per curare le tonsille infiammate. Ingredienti 1 litro d'acqua 100 g di borragine 2 cucchiai di miele 50 g Preparazione Fate bollire l'acqua con la borragine finché il liquido non si riduce ad un terzo. Filtrate il liquido ottenuto per poi aggiungere il miele. Realizzate degli sciacqui ogni 3 ore. Frullato multivitaminico contro la tonsillite Il frullato multivitaminico che vi presentiamo a seguire vi aiuterà ad alleviare il mal di gola, già che si tratta di un antibiotico naturale con la capacità di combattere raffreddori e ogni tipo di congestione. Ingredienti 1 barra 2 litro di succo d'arancia 4 guava 4 spicchi d'aglio 1 fetta di cipolla 2 cucchiai di miele 50 g Preparazione Preparate il succo e tagliate la guava, per poi triturate l'aglio. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore insieme alla cipolla e al miele. Mescolate il tutto fino ad ottenere un frullato omogeneo. Bevete immediatamente. 7 9 11 12 13